Lo studio sull'impatto dell'inquinamento nell'area intorno all'impianto di incenerimento di rifiuti di AISA di San Zeno avrà necessità ancora di alcuni mesi per disporre dei risultati definitivi, la conclusione stabilita a fine 2014. Nel corso del forum sul progetto che si è tenuto all'auditorium dell'ospedale San Donato sono stati comunque presentati risultati preliminari. I risultati di uno studio pilota di monitoraggio biologico umano eseguito dal Dipartimento della Prevenzione Uslotto su 23 residenti nell'area di San Zeno per valutare l'esposizione a inquinanti ambientali ha mostrato come il monitoraggio urinario per i residenti in quest'area presenta valori medi per cromo e cobalto più elevati rispetto a quelli rilevati in altre aree dello studio. Per il cadmio sono stati osservati valori medi più elevati rispetto a quelli di Arezzo e Casentino, per gli altri metalli non sono stati osservati incrementi rispetto ad Arezzo e Civitella. Pur non essendo elevati i superamenti osservati rispetto ai gruppi di confronto, i dati meritano ulteriore valutazione. Inoltre il 29 per cento dei partecipanti ha mostrato alterazioni quantitative di porfirine urinarie per le quali sono previsti ulteriori approfondimenti. Sulle analisi di diossine e policloro bifeni lim nei terreni sono emersi i dati largamente al di sotto ai limiti di legge. Sullo studio dei ricoveri ospedalieri nel decennio 2001-2010 sono emersi alcuni segnali degni di attenzione e approfondimento. Lo studio in corso riguarda tutti i ricoveri di soggetti di qualsiasi età, purché residenti in un'area di 12 chilometri per 12, centrata approssimativamente su San Zeno e includente la maggior parte del comune di Civitella e la porzione sud-ovest dell'abitato della città di Arezzo. Il disegno dell'indagine è il più avanzato in epidemiologia perché tiene conto del profilo di esposizione a inquinanti lungo un decennio e calcola i rischi confrontando le classi più elevate di esposizione con la classe più bassa presa come confronto.